Amici, mi trovo da Casoria Car, i numeri 1 della Rottamazione. Il processo di autodemolizione è super tecnologico, l'obiettivo è quello di ridare una seconda vita alle componenti dei veicoli. Controllo imperfezioni, pulito, catalogato e messo online. Ricambi auto, camion, moto e scooter. Qui non esistono ricambi impossibili. La saluto. Ricambi. Casoria Car, i veri pitbull della Rottamazione. Ricambi. 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 Ricambi.